Diamo il benvenuto in casa BSL a Dorian Tapia, che dal prossimo anno vestirà i colori della BSL Roberto Nutigruppo. Allora Dorian, le tue prime sensazioni? Per me è un piacere essere in una società come BSL, anche perché conosco tanta gente dello staff tecnico, tanta gente della dirigenza, quindi è solo che un piacere affrontato tantissime volte dall'avversario, poterci far parte, è un piacere. Ecco, invece parlando, forse parlare di obiettivi in sé per sé è un po' presto, però sì, dai, cominciamo a fissare un po' le asticelle, a fissare i tuoi obiettivi magari personali, tenendo conto che sarai prezioso anche per i più giovani con la tua esperienza e magari anche un po' di squadra. Sui obiettivi sì, è presto, perché poi siamo a fine luglio, dobbiamo conoscerci bene tutti, mi devono conoscere gli altri, quindi di conseguenza è un po' presto. Gli obiettivi principali di squadra è sicuramente fare il meglio possibile, essendo un gruppo giovane farli crescere il più possibile, farli maturare a livello senior e potergli dare io una mano come hanno fatto con me in passato gli altri senior, quindi di conseguenza è cercare di essere il più utile possibile, sia in campo che fuori. Il mio personale obiettivo è migliorare quello che ho iniziato l'anno scorso, dove ho ripreso a giocare a discreti livelli, con una discreta continuità, dopo l'infortunio dei ginocchi e quindi di conseguenza è poter crescere ancora di più e fare del mio meglio. Grazie mille! Grazie a te!